Nuovi guai per Irene Pivetti che risulta indagata assieme ad altre 5 persone nell'inchiesta milanese che ha portato la Guardia di Finanza perquisire la sua abitazione a Milano e alcune sue società. L'indagine riguarda alcune operazioni di import-export con la Cina attraverso società riconducibili all'ex presidente della Camera. Durante le perquisizioni i militari hanno prelevato dall'abitazione materiale informatico documenti cartacei che sono utili allo svolgimento delle indagini. La perquisizione, secondo le prime informazioni, è andata avanti per circa un'ora e mezza. Grazie